Da Rieti Centro d'Italia per la Fiera Mondiale del Peperoncino è possibile anche incontrare delle inaspettate e gradevoli sorprese come questa di Quilt Italia con Patrizia Girlanda. Di che cosa si tratta nel segno del patchwork? Il patchwork è praticamente una forma d'arte, a tutti gli effetti ormai sta diventando una forma d'arte attraverso la quale noi non lavoriamo con pennelli piuttosto che scalpelli, quindi pittura o scultura, ma lavoriamo con i tessuti, con i colori e il nostro pennello è l'ago della macchina da cucire piuttosto che l'ago per cucire a mano. Il nome Quilt, i nostri telespettatori sicuramente si stanno interrogando Quilt e non Kilt. Certo, Kilt è il gonnellino di Carlo d'Inghilterra. Quilt praticamente indica il lavoro, voi alle mie spalle vedete dei Quilt, quindi un'opera di questa è un Quilt. Quilt significa appunto un patchwork lavorato e cucito sui tre strati, quindi la parte del top, che è la parte che voi vedete colorata con i peperoncini piuttosto che altre forme di lavorazione, c'è un'imbottitura e poi la parte del retro che chiude tutto il lavoro. Quilt deriva appunto da Cucita, una parola di origine latina significa appunto imbottitura. Il Cucito risponde a diverse tecniche compositive in effetti. Puoi illustrarci le più note e le più utilizzate? Volentieri. Allora qui abbiamo una vasta rappresentanza delle tecniche di patchwork, abbiamo l'appliqué che significa appunto applicare delle immagini, quindi voi vedete dei peperoncini che sono stati ritagliati da tessuti e appoggiati su un tessuto di base con la cucitura che può essere a mano o a macchina. Ci sono poi tecniche più geometriche dove il gioco del colore crea delle stelle piuttosto che delle immagini geometriche astratte. Ci sono poi tecniche di taglio con dei lavori che vediamo che sono esposti nell'altra parte dello stand dove c'è addirittura una tridimensionalità, quindi il lavoro non rimane piatto ma ci sono delle parti opportunamente doppiate che rimangono in evidenza, quindi in tridimensione. Patrizia, voi venite da? Allora, l'associazione Equilt Italia è su base nazionale, attualmente io sono la presidente e quindi Verona è la sede, cioè San Giovanni Lupatotto è proprio la sede dell'associazione nazionale. Come nasce questa tua straordinaria passione? Questa mia passione è nata da sempre amato cucire. La nonna, la zia, la mamma naturalmente ti insegnano eccetera, poi crescendo il colore. Il colore perché avevo un nonno pittore bravissimo e lui tutti gli anni mi regalava tavolozza, colori eccetera con i quali io regolarmente facevo delle cose abominevoli che non potevamo certo definire quadri e poi improvvisamente ho visto che con il tessuto potevo fare cose simili. Questo infatti è una delle mie scelte che dedico veramente al nonno Giovanni perché è stato lui con le sue immagini probabilmente a scatenare in me la voglia di manipolare i tessuti per renderli comunque delle piccole opere d'arte. Insomma io non mi ritengo un'artista, sono una persona appassionata, ci metto l'anima in quello che faccio e quindi il risultato tutto sommato è gradevole. La vostra presenza a Rieti Centro d'Italia nell'ambito della Fiera Mondiale del Peproncino e la scoperta quando arrivò la prima volta della città, che cosa la colpì in modo particolare? Beh la città per un affetto mio personale era già comunque a me conosciuta e appunto c'è questo legame diciamo di affetto e comunque è affascinante affascinante perché è una città movimentata, io l'ho vista tutte le ore del giorno a parte questa mattina che sembrano tutti addormentati dopo la movida di ieri sera però effettivamente è una bella città da vivere H24. Bellissimo l'invito, gradevolissimo l'invito di Stefano Colantoni lo scorso anno proprio per la prima manifestazione e bella la risposta proprio della città che comunque è interessata a queste immagini che per loro nuove probabilmente la zona di Rieti non ha ancora una grande conoscenza del patchwork però devo dire che moltissime persone si fermano e non solo donne ma proprio uomini, ragazzi, affascina chiunque forse è questa macchia di colore decisamente esuberante. Un'arte sicuramente piccante il patchwork che in questo caso poi si nutre anche di contenuti legati al tema del peperogero. Sì, qui il contest che vedete esposto è stato ideato proprio pensando al peperoncino piccante quindi è stato 50 sfumature di peperoncino dedicato decisamente a Rieti Cuore Piccante. Ed ora questo contest arriva alla fase finale dove saranno selezionati i lavori ritenuti di maggior valore sarà molto difficile perché qui ogni patchwork ha delle sue specificità e dei suoi valori assoluti. Una scelta non facile. Beh, ci sarà comunque una giuria, una giuria molto particolare questa volta sarà interessante. Ci sarà il tecnico, ci sarà l'artistico e ci sarà anche l'obiettivo del giornalista. Quindi mi affascina, non vedo l'ora, mancano pochi minuti ma fremo per vedere questa giuria che poi appunto decreterà il primo, secondo o terzo premio per questa manifestazione. E per chiudere, un auspicio per Quilt Italia. Che cosa ti aspetti? Un tuo, non voglio dire sogno, un tuo progetto a venire? Ma il mio progetto è tre anni e mezzo ormai che lo porto avanti come presidente. Quilt Italia deve crescere, deve essere aperta a tutti e soprattutto il mio motto è forza perché insieme si fanno cose davvero meravigliose. E grazie, grazie di cuore a Patrizia Girlanda. Grazie. Grazie a te.